La mia posizione, che poi è quella del Comitato Olimpico Italiano, abbiamo parlato tante volte in Giunta, anche recentemente, è che ci sia una persona, possibilmente con un ministero, possibilmente con un portafoglio, in modo che direttamente in prima istanza è in grado di portare le risposte, le soluzioni che il nostro mondo chiede, perché basta vedere i telegiornali, i media, i social, la carta stampata, i blog, insomma oggi siamo sempre tra le primissime notizie, siamo molto molto di appeal sull'opinione pubblica e in più ospitiamo le Olimpiadi. Di conseguenza, lo stesso Bach l'ha detto chiaramente, è fondamentale un'interlocuzione proprio a braccetto dalla mattina alla sera con chi avrà questo onore e onore delle deleghe. Io penso, più di dire che speriamo bene, io penso che mi stupirei moltissimo se non ci fosse questa complicità, sarebbe autoresorismo totale.